oh quanto mi manca blabur queen ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video scusate se alla fine non vi saluterò però posso fare il video fino a 6 minuti e 9 quindi apriamo una lol oggi apriremo quella che abbiamo creato se ve la ricordate per chi non avesse visto il video guardi e vede quale lol uscirà per fare una sorpresa a kigbee ora apriamo noi questa lol tiriamo la cerniera con delicatezza perché altrimenti potrebbe persino non possiamo farle non si è rosa prima apriamo la carta poi questa cerniera dobbiamo fare moltissima attenzione per fare è gold è oro la pool è oro oh no si sono rotti gli indizi perché ho sbagliato a metterli nello scotch però li avevo messi perché non volevo fare pasticci nel mettere la lol poi ci sono le solite istruzioni che non servono proprio a niente vabbè gli indizi rotti poverini sono andati in acqua gli indizi e stickers poveretti vabbè questi che non servono a niente ovviamente si potrebbero bere infatti ecco lo sembra sempre oro poi c'è il blog che lo scopriremo dopo e avremo una bella sorpresa a kigbee se c'è infatti infatti eccovi perché non mi sa io quindi già sa che c'è voi se non avete visto il video non lo sapete qui cosa c'è la collana ragazzi poi i suoi vestiti e infine le sue scarpine poi qui c'è il biberon ragazzi e infine la lol che è glamour queen ora la vestiamo in 3,2,1 ragazzi ed ecco qui la nostra glamour queen vestita se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche seguitemi anche su tiktok con il profilo di mary29 lol su instagram con il profilo di maria francesca bogazzi e su slamschat con il profilo di m trattino basso bogazzi19 ciao 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 ciao